Posta via Gufo Harry Potter era un ragazzo insolito sotto molti punti di vista. Prima di tutto odiava le vacanze estive più di qualunque altro periodo dell'anno. Poi voleva davvero fare i compiti, ma era costretto a studiare di nascosto, nel cuore della notte, e per giunta era un mago. Era quasi mezzanotte e Harry era steso sul letto a pancia in giù, le coperte tirate sulla testa come una tenda, una torcia in mano e un grosso libro rilegato in pelle. Storia della magia, di Batilda Beckshot, aperto e appoggiato al cuscino. Fece scorrere la punta della penna d'aquila sulla pagina, aggrottando le sopracciglia, alla ricerca di qualcosa che potesse aiutarlo a scrivere il tema perché i roghi di streghe nel XIV secolo furono completamente inutili. La penna si arrestò all'inizio di un paragrafo promettente. Harry si sistemò sul naso gli occhiali rotondi, avvicinò la torcia al libro e l'esse. Nel Medioevo, i non-maghi, comunemente noti come babbani, nutrivano un particolare timore per la magia, ma non erano molto abili nel riconoscerla. Nelle rare occasioni in cui catturavano una vera strega o un vero mago, i roghi non avevano comunque alcun effetto. La strega o il mago eseguivano un semplice incantesimo fredda fiamma e poi fingevano di urlare di dolore, mentre in realtà provavano una piacevole sensazione di solletico. Wendelin la stramba era così contenta di farsi bruciare che si lasciò catturare non meno di 47 volte sotto vari travestimenti. Harry si infilò la penna tra i denti e frugò sotto il cuscino, in cerca dell'inchiostro e di un rotolo di pergamena. Lentamente e con molta attenzione stappò la boccetta, vi intinse la penna e cominciò a scrivere, interrompendosi ogni tanto per tendere l'orecchio, perché se uno dei Darsley andando in bagno avesse sentito lo scricchiolio della penna, probabilmente Harry si sarebbe ritrovato chiuso nel ripostiglio del sottoscala per il resto dell'estate. La famiglia Darsley di Prive Drive numero 4 era il motivo per cui Harry non si era mai goduto le vacanze estive. Zio Vernon, zia Petunia e il loro figlio Dudley erano i suoi unici parenti, tutti e tre babbani e con un atteggiamento davvero medievale nei confronti della magia. I genitori scomparsi di Harry, una strega e un mago, non venivano mai nominati sotto il tetto dei Darsley e per anni zia Petunia e zio Vernon avevano tiranneggiato Harry in tutti i modi, nella speranza di soffocare in lui ogni scintilla di magia. Con loro grande scorno avevano fallito e in quei giorni vivevano nel terrore che qualcuno scoprisse che Harry aveva trascorso gran parte degli ultimi due anni alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Il massimo che potevano fare comunque era mettere sotto chiave i libri di incantesimi, la bacchetta, il calderone e la scopa di Harry sin dall'inizio delle vacanze estive e proibirgli di parlare con i vicini. Il sequestro dei libri era un autentico problema per Harry dal momento che aveva da fare un sacco di compiti per le vacanze. Tra l'altro l'insegnante meno amato da Harry, il professor Piton, gli aveva assegnato un tema particolarmente difficile sulle pozioni restringenti e non aspettava altro che una scusa per punirlo un mese di fila. Così Harry aveva colto l'occasione durante la prima settimana di vacanza. Mentre zio Vernon, zia Petunia e Dudley erano in giardino ad ammirare la nuova auto aziendale, a voce molto alta in modo che si sapesse in tutto il vicinato, Harry era scivolato da basso, aveva forzato il lucchetto del ripostiglio del sottoscala, aveva afferrato rapidamente alcuni libri e li aveva nascosti sotto il letto. Fintanto che non lasciava macchia di inchiostro sulle lenzuola, i Darsley non avrebbero mai scoperto che studiava di notte. Oltretutto Harry stava particolarmente attento a evitare guai con gli zii perché erano già parecchio arrabbiati con lui a causa di una telefonata giunta una settimana prima da un compagno di scuola. Ron Weasley, uno dei migliori amici di Harry a Hogwarts, proveniva da una famiglia composta interamente da maghi e sapeva un sacco di cose che Harry ignorava, ma non aveva mai usato un telefono. Per colmo di sfortuna era stato zio Vernon a sollevare la cornetta. Qui Vernon Darsley. Harry, che era per caso lì accanto, udì la voce di Ron e si sentì gelare. «Pronto? Pronto? Mi sente? Vorrei parlare con Harry Potter!» Ron gridava così forte che zio Vernon sobbalsò e allontanò il ricevitore dall'orecchio, guardandolo con un misto di furia e spavento. «Che parla?» ruggì. «Che sei?» «Ron Weasley!» urlò Ron in risposta, come se lui e zio Vernon si stessero parlando dagli estremi opposti di un campo di calcio. «Sono un compagno di scuola di Harry!» Gli occhietti di zio Vernon rotearono, fermandosi su Harry, che era come inchiodato al pavimento. «Qui non c'è nessun Harry Potter!» ruggì tenendo il ricevitore più lontano possibile, come se temesse di vederlo esplodere. «Non so di che scuola stai parlando! Non chiamare mai più! Non osare avvicinarti alla mia famiglia!» e scaraventò via la cornetta, come se fosse un ragno velenoso. La sfuriata che ne seguì era stata una delle peggiori in assoluto. «Come hai osato dare questo numero a gente come... gente come te!» aveva strillato zio Vernon sputacchiando saliva tutti intorno. Ron naturalmente capì di aver messo Harry nei guai, perché non richiamò. Nemmeno l'altra sua grande amica di Hogwarts, Hermione Granger, si era fatta viva. Harry sospettava che Ron avesse avvertito Hermione di non chiamare, il che era un peccato, perché Hermione, la studentessa più brillante del loro anno, aveva genitori babbani, sapeva perfettamente come usare un telefono e probabilmente avrebbe avuto abbastanza buonsenso da non dire che frequentava Hogwarts. Così Harry non aveva notizie dei suoi amici da cinque lunghe settimane e quell'estate si stava rivelando brutta quasi come quella precedente. Ci fu solo un piccolissimo miglioramento. Dopo aver giurato che non l'avrebbe usata per spedire lettere a nessuno dei suoi amici, Harry aveva avuto il permesso di lasciare libera almeno di notte la sua civetta, Edvige. Zio Vernon aveva ceduto per via del fracasso che Edvige faceva se restava sempre chiusa in gabbia. Harry finì di scrivere di Wendelin la stramba e tese di nuovo l'orecchio. Il silenzio nella casa buia era rotto solo dal lontano fragoroso russare del suo enorme cugino Dudley. Doveva essere molto tardi, gli occhi di Harry bruciavano dalla stanchezza. Forse era meglio finire il tema domani notte. Harry richiuse la boccetta, prese una vecchia federa, vi infilò la torcia, la storia della magia, il tema, la penna e l'inchiostro. Si alzò e nascose il tutto sotto il letto, in uno spazio coperto da un asse mobile. Poi si alzò di nuovo, si stiracchiò e guardò la sveglia luminosa sul comodino. Era luna di notte. Lo stomaco di Harry fece un buffo sobbalzo. Aveva tredici anni già da un'ora, senza saperlo. Un'altra cosa strana di Harry era la scarsa considerazione in cui teneva i suoi compleanni. Non aveva mai ricevuto un biglietto d'auguri in tutta la sua vita. I Dursley avevano completamente ignorato l'evento nei due anni passati e non c'era motivo di credere che si sarebbero ricordati di questo. Harry attraversò la stanza buia, oltrepassò la grande gabbia vuota di Edwige e andò verso la finestra aperta. Si sporse sul davanzale. L'aria fresca della notte era piacevole sulla faccia, dopo tutto quel tempo passato sotto le coperte. Edwige era via da due notti ormai. Harry non era preoccupato. Era stata lontana da casa altrettanto a lungo prima di allora, ma sperava che tornasse presto. Era l'unica creatura vivente in quella casa che non si scomponesse alla sua vista. Harry, benché ancora piuttosto piccolo e mingerlino per la sua età, era cresciuto di qualche centimetro nell'ultimo anno. I suoi capelli nerissimi comunque erano quelli di sempre, ostinatamente in disordine. Qualunque cosa facesse. Gli occhi dietro le lenti erano verde brillante e sulla fronte, chiaramente visibile attraverso il ciuffo, c'era una sottile cicatrice a forma di saetta. Di tutte le cose insolite di Harry, quella cicatrice era la più straordinaria. Non era, come i Dursley avevano sostenuto per dieci anni, il segno dell'incidente d'auto in cui erano morti i genitori di Harry, perché Lily e James Potter non erano morti in un incidente. Erano stati uccisi dal più temuto mago oscuro degli ultimi cento anni, Voldemort. Ma Harry era scampato all'attacco senz'altro segno che quella cicatrice. La maledizione di Voldemort invece di ucciderlo si era ritorta contro chi l'aveva scagliata. Più morto che vivo, Voldemort era fuggito. In seguito Harry si era trovato faccia a faccia con lui a Hogwarts. Nel ricordare il loro ultimo incontro, lì in piedi davanti alla finestra buia, Harry dovette ammettere di essere fortunato ad aver raggiunto il suo tredicesimo compleanno. Scrutò il cielo stellato alla ricerca di un segno di Edwige, magari di ritorno con un topo morto pensolante dal becco in attesa di Lodi. Il suo sguardo vagava assente sui tetti, così ci mise qualche secondo a capire cosa fosse ciò che gli si parò davanti agli occhi. Stagliata contro la luna d'oro, sempre più grande man mano che si avvicinava, c'era una grande creatura stranamente sghemba che volava verso di lui. Harry rimase immobile a fissarla. Per un attimo esitò, la mano sulla maniglia della finestra chiedendosi se non fosse il caso di chiuderla rapidamente. Ma poi la bizzarra creatura planò su uno dei lampioni di Privet Drive e Harry, che finalmente aveva capito cosa fosse, fece un balzo di lato per farla passare. Dalla finestra entrarono tre gufi, due di loro sorreggevano il terzo, che sembrava privo di sensi. Atterrarono con un morbido flamp sul letto di Harry e il gufo in mezzo, che era grosso e grigio, si rovesciò su un fianco e giacque immobile. Aveva un voluminoso pacco legato alle zampe. Harry riconobbe immediatamente il gufo privo di sensi. Si chiamava Errol e apparteneva alla famiglia Weasley. Harry balzò subito sul letto, slegò le corde attorno alle zampe di Errol, prese il pacco e portò l'uccello nella gabbia di Edwige. Errol aprì un occhio appannato, fece un debole verso di ringraziamento e tuffò il becco nella vaschetta dell'acqua. Harry si voltò verso gli altri uccelli. Uno dei due, una grossa civetta candida, era la sua Edwige. Anche lei portava un pacco e sembrava estremamente soddisfatta di sé. Chiede a Harry un colpetto affettuoso col becco mentre lui la liberava del fardello, poi volò attraverso la stanza per raggiungere Errol. Harry non riconobbe il terzo gufo, un bel esemplare di allocco, ma capì all'istante da dove veniva perché, oltre a un terzo pacchetto, portava una lettera con il sigillo di Hogwarts. Quando Harry gli prese il pacco, il gufo arruffò le piume con aria di importanza, spalancò le ali e spiccò il volo, nella notte, attraverso la finestra. Harry si sedette sul letto e prese il pacco di Errol, strappò l'involucro e scoprì un regalo avvolto in carta dorata insieme al primo biglietto d'auguri della sua vita. Con dita tremanti aprì la busta. Ne scivolarono fuori due fogli di carta, una lettera e un ritaglio di giornale. Il ritaglio proveniva chiaramente dal quotidiano dei maghi, la gazzetta del profeta, perché le foto in bianco e nero erano animate. Harry lo prese, lo dispiegò e lesse. Dipendente del Ministero della Magia vince grosso premio. Arthur Weasley, direttore dell'ufficio per l'uso improprio dei manufatti dei babbani al Ministero della Magia, ha vinto il primo premio della lotteria annuale Super Galeone d'Oro della Gazzetta del Profeta. Il signor Weasley, soddisfattissimo, ha dichiarato alla Gazzetta del Profeta. Useremo il premio per una vacanza in Egitto, dove mio figlio maggiore Bill lavora come spezza incantesimi per la banca dei maghi Gringot. La famiglia Weasley trascorrerà un mese in Egitto, ma tornerà in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico a Hogwarts, dove attualmente sono iscritti cinque dei sette ragazzi Weasley. Harry guardò la foto animata e un gran sorriso gli si allargò in volto, quando vide tutti i nove Weasley che lo salutavano agitando freneticamente un braccio, in piedi, davanti a un'alta piramide. La piccola e rotondetta signora Weasley, l'alto signor Weasley, sempre più stempiato, sei figli e una figlia, tutti quanti, anche se dall'immagine in bianco e nero non si vedeva, forniti di capelli rosso fiamma. Proprio al centro della foto c'era Ron, alto ed inoccolato, con il topo crosta sulla spalla e il braccio attorno alle spalle della sorellina Ginny. Per Harry nessuno meritava di vincere un bel mucchio d'oro più dei Weasley, che erano molto simpatici ed estremamente poveri. Prese la lettera di Ron e la aprì. Caro Harry, buon compleanno. Senti, mi dispiace davvero per quella telefonata. Spero che i babbani non ti abbiano strapazzato. Ho chiesto a papà e ha detto che non dovevo urlare. È bellissimo qui in Egitto. Bill ci ha portati a vedere le tombe e non ti immagini nemmeno tutte le maledizioni che quegli antichi maghi egizi ci hanno ficcato dentro. La mamma non ha voluto che Ginny mettesse piede nell'ultima. Era piena di scheletri mutanti, di babbani che erano riusciti a entrare e gli erano cresciute delle teste in più e roba del genere. Non ci potevo credere quando papà ha vinto il super galeone d'oro della gazzetta. Settecento galeoni! Li abbiamo spesi quasi tutti per questa vacanza, ma mi compreranno una nuova bacchetta per il prossimo anno. Harry ricordava fin troppo bene la circostanza in cui la vecchia bacchetta di Ron si era spezzata. Era successo quando l'auto volante con cui stavano andando a Hogwarts si era schiantata contro un albero nel cortile della scuola. Torneremo una settimana prima dell'inizio della scuola e andremo a Londra a comprare la mia bacchetta e i libri nuovi. Ci vediamo là? Non farti mettere sotto dai babbani! Cerca di venire a Londra! Ron. P.S. Percy è diventato capo scuola. Ha ricevuto la lettera la settimana scorsa. Harry guardò di nuovo le fotografie. Percy, che frequentava il settimo e ultimo anno a Hogwarts, aveva l'aria particolarmente compiaciuta. Un nuovo distintivo d'argento scintillava sul fez che portava sopra gli occhiali cerchiati di corno. Poi Harry rivolse la sua attenzione al regalo e lo scartò. Dentro c'era quella che sembrava una trottola di vetro in miniatura. Sotto c'era un altro biglietto di Ron. Harry, questo è uno spioscopio tascabile. Se nei dintorni c'è qualcuno di cui non fidarsi, dovrebbe accendersi e cominciare a girare. Bill dice che è robaccia per Maggie in vacanza e che non ci si può far conto perché ieri sera ha continuato ad accendersi per tutta la cena. Ma non si era accorto che Fred e George gli avevano messo degli scarafaggi nella minestra. Ciao da Ron. Harry posò lo spioscopio tascabile sul comodino, dove rimase fermo, in equilibrio sulla punta, a riflettere le lancette luminose della sveglia. Lo guardò con gioia per qualche secondo, poi prese il pacco portato da Edvige. Anche lì dentro c'erano un regalo incartato, un biglietto e una lettera, questa volta da parte di Hermione. Caro Harry, Ron mi ha scritto raccontandomi della sua telefonata con tuo zio Vernon. Spero che tu stia bene. Sono in vacanza in Francia al momento e non sapevo come fare a spedirti questo pacco. E se per caso lo aprivano alla frontiera? Ma poi è spuntata Edvige. Credo che volesse essere sicura che tu ricevessi qualcosa per il tuo compleanno una volta tanto. Ti ho comprato questo regalo via Gufo. C'era la pubblicità sulla Gazzetta del Profeta. Me la faccio recapitare qui. È bello tenersi aggiornati sulle novità del mondo della magia. Hai visto la foto di Ron e della sua famiglia una settimana fa? Scommetto che sta imparando un sacco di cose. Sono davvero invidiosa. I maghi dell'antico Egitto erano affascinanti. Anche qui ci sono tracce di un passato di stregoneria comunque. Ho riscritto tutto il tema di storia della magia per inserire alcune delle cose che ho scoperto. Spero che non sia troppo lungo. Sono due rotoli di pergamena in più di quello che ha chiesto il professor Beans. Ron dice che sarà a Londra l'ultima settimana di vacanze. Tu ce la farai? Tua zia e tuo zio ti lasceranno venire? Spero proprio di sì. Altrimenti ci vediamo su Logwarts Express il primo settembre. Con affetto. Ermione. PS. Ron dice che Persi è diventato caposcuola. Scommetto che ne è felice. Ron invece non sembra troppo contento. Harry rise, posò la lettera di Ermione e prese il suo regalo. Era molto pesante. Conoscendo Ermione era certo che fosse un grosso libro pieno di incantesimi molto difficili. E invece no. Il cuore di Harry diede un gran balzo mentre lui strappava la carta. Quello che vide fu una custodia di pelle nera con una scritta d'argento. Kit di manutenzione per scope. Wow, Ermione! Sussurrò Harry aprendo la cerniera. C'era un grosso barattolo di lucido per manici extra lusso, il quercione, un paio di lucenti forbici coda ciuffi d'argento, una piccola bussola d'ottone da assicurare al manico durante i lunghi viaggi e un libro intitolato Guida fai da te alla manutenzione delle scope. Oltre ai suoi amici, la cosa di Hogwarts che a Harry mancava di più era il quidditch, lo sport più popolare del mondo della magia. Altamente pericoloso, molto eccitante, si giocava a cavallo di manici di scopa. Harry eccelleva nel quidditch, era il più giovane giocatore degli ultimi cento anni. Una delle cose più preziose che Harry possedeva era la scopa da corsa Nimbus 2000. Mise da parte l'astuccio di pelle e prese l'ultimo pacco. Riconobbe immediatamente lo scarabocchio sulla carta marrone. Era di Hagrid, il guardacaccia di Hogwarts. Strappò il primo strato di carta e intravide qualcosa di verde, apparentemente di pelle, ma prima che finisse di scartarlo il pacchetto ebbe uno strano fremito e il suo contenuto, qualunque cosa fosse, mandò uno schiocco secco e forte, come se avesse le mascelle. Harry si sentì gelare. Sapeva che Hagrid non gli avrebbe mai spedito di proposito qualcosa di pericoloso, ma d'altra parte Hagrid aveva una percezione del pericolo ben diversa dalla media. Era famoso per aver addomesticato ragni giganti, aver comprato un malefico cane a tre teste e aver tenuto di nascosto uova di drago illegali nella sua capanna. Harry tastò nervosamente il pacco, l'oggetto misterioso schioccò di nuovo. Harry afferrò saldamente la lampada sul comodino e la levò alta sopra la testa, pronto a colpire. Poi afferrò con l'altra mano il resto della carta che avvolgeva il pacco e tirò. Ne uscì un libro. Harry ebbe appena il tempo di notare la bella copertina verde con soprainciso a lettere d'oro il titolo Il libro mostro dei mostri prima che il volume scattasse in equilibrio sul bordo, dandosi alla fuga di traverso sul letto come un granchio bizzarro. «Oh oh!» borbottò Harry. Il libro cadde dal letto con un tonfo sordo e attraversò rapido la stanza. Harry lo seguì, guardingo. Si era nascosto nello spazio buio sotto la sua scrivania. Pregando che i Darsley fossero ancora profondamente addormentati, Harry si mise a quattro zampe e cercò di agguantare il volume. «Aia!» Il libro si chiuse di colpo sulla sua mano e poi corse via sbatacchiando, sempre di sghembo sui bordi della copertina. Harry avanzò carponi, si slanciò in avanti e riuscì ad appiattirlo. Dalla camera accanto giunse un grugnito sonnolento di zio Vernon. Edvige ed Errol osservarono con interesse Harry che prendeva il libro e lo stringeva con forza fra le braccia, correva verso il cassettone e ne estraeva una cintura che legò attorno al curioso oggetto. Il libro mostro fu scosso dalla rabbia, ma non poteva più aprirsi e chiudersi di scatto. Così Harry lo gettò sul letto e prese il biglietto di Hagrid. «Caro Harry, buon compleanno. Credo che troverai questa cosa interessante per il prossimo anno. Non ti dico altro adesso, ti dico quando ti vedo. Spero che i babbani ti trattano come si deve. Stammi bene, Hagrid». A Harry parve alquanto allarmante che Hagrid considerasse utile un libro mordace, ma mise il suo biglietto vicino a quelli di Ron e di Hermione con un sorriso più largo che mai. Restava solo la lettera da Hogwarts. Notando che era più voluminosa del solito, Harry aprì la busta, estrasse il primo foglio di pergamena LS. Caro signor Potter, ci pregiamo di informarla che il nuovo anno scolastico comincerà il primo settembre. L'Hogwarts Express partirà dalla stazione di King's Cross, binario 9 ¾ alle 11 in punto. Gli studenti del terzo anno hanno il permesso di visitare il villaggio di Hogsmeade in alcuni fine settimana stabiliti. La preghiamo di restituirci l'autorizzazione allegata, firmata da un genitore o da un tutore. Allego la lista dei libri di testo per il prossimo anno. Cordialmente, professoressa M. McGonagall, vicepreside. Harry estrasse l'autorizzazione e la guardò, senza più sorridere. Sarebbe stato meraviglioso poter visitare Hogsmeade nei fine settimana. Sapeva che era un villaggio abitato esclusivamente da maghi e non vi aveva mai messo piede prima. Ma come avrebbe fatto a convincere gli zii a firmare il permesso? Guardò la sveglia. Erano le due del mattino. Harry decise che avrebbe pensato a Hogsmeade al suo risveglio. Tornò a letto e si sporse per cancellare un altro giorno sulla tabella che si era fatto per contare i giorni mancanti al suo ritorno a Hogwarts. Poi si tolse gli occhiali e si distese, a occhi aperti, fissando i tre biglietti di compleanno. Per quanto fosse un ragazzo decisamente insolito, in quel momento Harry Potter si sentì proprio come chiunque altro, felice per la prima volta nella vita che fosse il suo compleanno.